Nelle prime ore di questa mattina gli agenti della pulizia di Stato hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere il 27enne Salvatore Casamonica, ritenuto responsabile di tentata estorsione. Il giovane appartenente alla nota famiglia aveva tentato lo scorso maggio di estorcere 500 euro a settimana al gestore di un pub in zona tuscolano, garantendogli una sorta di protezione in cambio del corrispettivo e paventando in caso di diniego il rischio che il gestore dell'esercizio commerciale o la struttura stessa potessero subire incidenti. Le indagini condotte dalla polizia di Stato e coordinate dalla procura della Repubblica di Roma hanno determinato da parte del giudice per le indagini preliminari l'emissione della misura restrittiva della libertà personale, eseguita oggi dagli agenti della polizia di Stato e del commissaretto Tuscolan della squadra mobile. L'odierna attività rientra nel più ampio dispositivo preventivo e repressivo dei reati attuato dalla Questura di Roma, nonché dall'attenzione rivolta a fenomeni criminali che incidono direttamente sull'operatività economica degli esercizi commerciali vittime del cosiddetto pizzo. È peraltro solo l'ultima testimonianza dell'attenzione della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica nei confronti delle attività delinquenziali poste in essere dal clan Casamonica. L'azione repressiva nei confronti del quale ha consentito negli ultimi anni l'esecuzione di 62 provvedimenti cautelari e il sequestro di oltre 3 milioni di euro in beni mobili ed immobili.